in realtà dicono che non ho un fisico molto femminile proprio perché sono molto definita, ora adesso anche questo concetto di femminilità al giorno d'oggi è stato un po' stravolto però io penso di essere femminile, comunque io dico se a una persona piace il fisico come il mio ecco sicuramente i pesi non li deve neanche guardare io comunque sono stata anche insultata per questa cosa nonostante questo perché hai detto questa roba qui sì ma la cosa bella è che hanno cominciato ad insultarmi tutti i personal trainer d'Italia, sembrava che si fossero qualizzati tutti per insultarmi le storie ma la cosa bella di queste persone è che mi taggavano quando mi insultavano e loro avevano un pubblico super targetizzato mi hanno fatto volare il fatturato, cioè mi hanno fatto proprio impennare in una maniera in quei giorni che mi insultavano tutti sono stata un po' sfortunata in amore sono sincera, perché magari quella volta che poteva andare bene succedeva qualche sfiga però in questo momento della mia vita comunque essere donna è difficilissima perché tu per esempio, no ma perché lavori magari lavori per raggiungere i tuoi obiettivi per avere una stabilità economica perché poi domani appunto se dovessi avere una famiglia, io sì ok c'è il partner ma vai a sapere tu oggi c'è domani non si sa cioè devi fare affidamento solo sulle tue forze questo è il mio pensiero, il mio mindset io in questo momento magari che mi sento stabile economicamente e che potrei avere una famiglia mi è stato detto che magari è un po' più difficile avere figli mi è stata detta questa cosa è già difficile trovare un partner mi dicono pure che è difficile avere figli ancora prima pensavo a trovare il partner poi magari penseremo a trovare figli però ecco la famiglia si lavorerà in questo momento eccoci qua, benvenuti in questo nuovissimo episodio del podcast 1% oggi abbiamo taylor mega, ciao taylor ciao tutta la grande ovviamente anche perché sei qui grazie per essere venuta ospite in questo super podcast grazie a voi per avermi invitato e chiaramente come ti dicevo poco fa e come dico sempre quando iniziamo questo podcast chi viene qui per noi fa parte del 1% ora vedremo perché con tante domande però taylor tu devi sapere che in questo podcast io chiedo sempre all'ospite di presentarsi e dire cosa fa nella vita ciao sono taylor mega sono due giorni che non bevo alcol no scherzo allora io mi occupo di instagram diciamo così ho un'applicazione dove faccio fitness che è una specie di netflix del fitness io dico sempre così perché alla fine sono dei video dove le persone si iscrivono appunto e guardano e si allenano con me e vabbè è una formula che ho trovato che a me piace tantissimo era quello che volevo poi vado in tv ogni tanto sì a far vedere il mio bel faccino e poi ci sono un po' di diversi business offline ok tipo? allora uno in centro estetico a Milano in centro bellissimo tra l'altro se vuoi andare beauty retreat beauty retreat anche per maschietti sì certo tutti si devono tenere bene in forma mi dice mia moglie che ogni tanto ne ho bisogno quindi non vado mai no ma tutti ne abbiamo bisogno siamo tutti perfettibili e poi altri business che in cui non ho messo il mio nome appositamente perché sai c'è tanta invidia in giro e quindi magari è meglio non far sapere troppe cose poi fa bene a volte staccarsi dal personal branding esatto soprattutto per rendere la cosa più autonoma io pure nel centro estetico non ci avrei messo il mio nome però i soci hanno insistito quindi va bene fantastico dove si trova il centro estetico? per chi vuole andare a vedere il corso di Porta Vittoria 12 ok segnatelo esatto ora detto questo Taylor tu hai un seguito enorme hai se non sbaglio 2,8 milioni di follower su Instagram la mia domanda la domanda che nasce spontanea è allora Taylor va in televisione hai fatto l'isola dei famosi sei stata su ospite in altri programmi televisivi tutti praticamente fa tutti i programmi media tutti qua adesso ne parliamo ok ma scriviamo oggi sono il tuo psicologo come dicevamo prima e ovviamente la domanda insomma sorge spontanea da dove sei partita? allora sono partita da un paesino in Friuli in provincia di Udine paesino di 3.000 anime infatti cioè facciamo un po' fatica a stare lì perché comunque ho una vita statica e sono partita da lì vabbè poi ho studiato a Udine andavo a studiare a Udine vabbè la faccio breve perché si racconta tutta la mia vita è un po' difficile andiamo fino a domani e poi da lì vabbè ho preso il diploma ho cominciato subito a lavorare sai i primi lavori che ti capitano così un po' per crescita personale sai i soliti cameriera questo e l'altro commessa poi ho cominciato a fare foto questo dopo il diploma giusto? sì beh anche prima del diploma lavoravo sono sempre lavorato e mi è sempre piaciuto portare a casa il grano e poi il grano ti piace? esatto guarda che piacciono tutti quelli che vengono qui sì non so per quale motivo non so perché c'è qualcosa parte dell'un per cento secondo me piace a chiunque dai un po' è diventato una saperfeccia di religione tra virgolette al giorno d'oggi il denaro e poi da lì ho cominciato a fare foto perché sono sincera mi piace mi piace essere guardata cioè mi piace essere guardata nel senso mi piace pubblicare foto insomma ricevere commenti interazioni è una cosa che mi ha sempre fatto piacere poi da lì ho visto che poteva diventare un business perché vedevo che tanti magari quindi tu hai cominciato a pubblicare foto nel tuo profilo per te sostanzialmente giusto? ok per pura vanità questo qui è il podcast a me piace che la gente che ci segue molto meno della tua ancora ancora ma chi ci segue ci segue uno dei feedback che ci dicono sempre perché siamo trasparenti diciamo la verità perché non sconderi la verità e diciamo la verità tu ti piace essere visti o seguiti o avere un seguito poi c'è chi ha paura magari gli hai piacerebbe ma paura poi ne parliamo però tu ti sei messo giù e hai messo sia per vanità ma anche perché magari ti piaceva far crescere un seguito oppure era solo per pura nel senso odio mi piace farmi vedere pubblicare le mie cose online allora intanto io posso capire che faccio paura perché infatti è anche uno dei motivi per cui io non avevo messo il mio nome vero e proprio e ho fatto ho creato questo nome d'arte avevo cominciato così tanto per poi durante il tragitto il percorso insomma che ho fatto su Instagram ho pensato che poteva diventare una cosa un po' più seria che potevo cominciare a monetizzare allora da lì ho cominciato a prenderla un po' più professionalmente e poi per fortuna insomma i brand vedevo che mi chiedevano di parlare del loro brand nelle mie storie oppure nei post cioè mi sa che c'erano ancora i post poi appunto ho visto che le sponsorizzazioni pure che facevo andavano bene ho cominciato a prenderla sempre più seriamente e alla fine poi è arrivata la chiamata dell'izona dei famosi e poi da lì ho partito tutto però aspetta perché insomma tu hai un seguito enorme chiaramente ti avranno chiamato anche perché avevi già il seguito credo giusto forse potrebbe essere anche quello allora sì me l'ho chiamato che avevo sai in quel periodo poi stavo facendo cioè avevo fatto un po' di casino sui social vedevo tutte le cose che dicevo tipo le ripostavano perché dicevo cose che non so la gente piaceva e quindi da lì c'era stato un incremento di follower quindi piaceva alla gente quindi lo ripostavano sì le persone mi piacevano sai poi ti ripostano quando ti ripostano ovviamente tutti vengono a vedere perché all'inizio poi c'è la curiosità di capire chi è questa persona che tutti ripostano ne parlano poi c'era stato anche un po' di gossip nel mentre quindi tutto fa brodo mi hanno chiamato all'isola dei famosi appunto quando avevo 800.000 follower ma quando poi sono andata all'isola dei famosi ne avevo già un milione tipo nell'arco di un mese erano già saliti quindi ti ha aiutato anche l'isola che ti ha sponsorizzato poi poi dopo mi ha aiutato l'isola però in realtà io all'isola ci sono stata una settimana dopo ho fatto il panico e le persone si erano incuriosite ancora di più e quindi erano in tanti venuti a vedere il mio profilo a seguirmi oppure piaceva il mio modo di essere non lo so ma perché poi anche lì all'isola ero stata molto real avevo parlato dei miei problemi di tossicodipendenza mia mamma l'aveva scoperto in tiretta insomma un po' di casino l'avevo fatto e poi da lì appunto il grande fratello no il grande fratello dopo un bel po' è arrivato però anche lì sono una settimana ho fatto come ospite però facevo tutti questi programmi dove in tutti questi programmi si discuteva molto poi avevo studiato delle strategie dove sì ok io vado in tv a discutere però poi col pubblico cerco di portarlo sul mio profilo perché ovviamente cercavo di portare acqua al mio mulino e da lì tramite queste chiamiamole strategie insomma il profilo aumentava i programmi mi volevano perché anche l'audience aumentava cioè c'era tutto un scambio era un lupo positivo un lupo esponenziale bellissimo però fino a 800.000 follower quindi da 0 800.000 follower cosa è successo come hai fatto ad arrivare a queste cifre semplicemente postando c'era una strategia di un algoritmo collaborazioni semplicemente postando e alle persone evidentemente piacevano le mie foto non so piaceva vedere il mio stile di vita piaceva quanto tempo c'hai messo per arrivare da 0800? due anni due anni quindi nemmeno troppo tempo se vogliamo nel 2016 mi avevano bloccato il profilo me l'avevano acchierato e ho dovuto rifarlo nuovo infatti se vado a vedere adesso il mio profilo quando è stato creato è nel 2016 2015 insomma più o meno così ok e se ci fosse un segreto che tu volessi condividere perché alla fine quello che stai raccontando tu è qualcosa che mirano e ambiscono in molti creare un seguito poi non è che molti pensano che hai un seguito automaticamente hai soldi non è diciamolo che non è così magari tu mi potrai smentire non è così però ecco non è così assolutamente noi conosciamo tante persone che hanno un seguito enorme e che non è che arrivano e non riescono a monetizzare certo e a volte nemmeno arrivare a fine mese se vogliamo dirlo tutto vero nel tuo caso non è così quindi e ne parliamo fra poco per capire cosa hai fatto speriamo che continui e sicuramente continuerà ma secondo te cioè che consiglio puoi dare a qualcuno che oggi vuole care un seguito allora io il consiglio che mi sento di dare che non è che devono diventare tutti influencer o tiktoker cioè voglio dire ci sono anche altri lavori adesso sembra che tutti ambiscono a diventare solo questo ma cioè si può tranquillamente fare altro nella vita studiare imparare oppure imparare nuovi mestieri e e non per forza focalizzarsi su una carriera social questo è il consiglio che mi sento di dare cioè sinceramente proprio c'è un bisogno anche di altre figure lavorative assolutamente assolutamente sono d'accordo e ti faccio una domanda tu oltre ai business che tu hai menzionato poco fa di cui parleremo fra un attimo hai anche fai anche l'influencer nel senso ti fai anche pagare per fare marketing sul tuo profilo dalle aziende dalle se si come funziona questo mondo se lo puoi un attimo spiegare allora sì diciamo che beh è l'entrata beh è una delle entrate principali mi sono dimenticata di dire prima che prima facevo anche molte ospitate cioè andavo nei locali e ovviamente il locale paga l'artista per semplicemente presenziare far divertire il pubblico le persone vengono a farsi le foto quindi li taggavi chiaramente immagini non so ma taggavi il locale no non avevano bisogno del tag bastava la presenza ok mentre su instagram io per esempio mi occupo molto di fitness e quindi beh di fitness all'invento c'è vita sana insomma tutto questo questo mindset quindi ovviamente i brand saranno più propensi a ad un target di questo tipo se hanno un prodotto magari per lifestyle sano healthy e quindi diciamo che vengo più contattata magari da questi brand oppure vestiti perché ovviamente cioè segue al fatto che io mi alleno ecco esatto che poi ti viene anche un bel fisico no e quindi anche brand di vestiti poi quando ti viene un bel fisico lo vuoi far vedere giustamente quindi compri dei vestiti io sempre così cioè da sempre perché ovviamente mi alleno molto è un impegno è un lavoro è un lavoro H24 e quindi mi fa anche piacere mostrarlo sono sincera cioè come quando ti guadagni duramente qualcosa è anche bello mostrarlo assolutamente sono d'accordo ma e poi diciamo anche le tue clienti che sono clienti o anche i clienti cioè sono solo donne o anche uomini ma per il fitness no per il fitness sono donne perché i miei allenamenti sono più rivolti verso le donne perché sono tutti allenamenti a corpo libero io credo molto nell'allenamento a corpo libero e nel fatto che non ci sia bisogno di pesi se si vuole raggiungere un fisico come il mio io i pesi li schifo chiaro chiaro assolutamente questo è quello che mia moglie aveva un prima di venire a lavorare con me aveva un piccolo business sul fitness e anche lei professava la stessa cosa ah sì 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 un corpo femminile lei dice diceva insomma fatto femminile non mascolino magari piace quello mascolino però se uno vuole un corpo più femminile più diciamo di un certo tipo bisogna fare a corpo libero magari con degli elastici ma in realtà dicono che non ho un fisico molto femminile proprio perché sono molto definita ora adesso anche questo concetto di femminilità al giorno d'oggi è stato un po' stravolto però io penso di essere femminile comunque io dico se a una persona piace il fisico come il mio ecco sicuramente i pesi non li deve neanche guardare chiaro io comunque sono stata anche insultata per questa cosa nonostante questo perché poi perché hai detto questa roba qui sì ma la cosa bella è che hanno cominciato ad insultarmi tutti i personal trainer d'Italia sembrava che si fossero equalizzati tutti per insultarmi le storie ma la cosa bella di queste persone è che mi taggavano quando mi insultavano e loro avevano un pubblico super targetizzato mi hanno fatto volare il fatturato cioè mi hanno fatto proprio impennare in una maniera in quei giorni che mi insultavano tutti grazie io continuo a dirlo quindi magari continueranno ad insultare che tra l'altro proprio per questo perché molti haters non capiscono che i haters fanno bene giustamente questo è un esempio quindi noi abbiamo questo brand I love haters l'ho visto subito per entrata una cosa che dico anch'io certo amo di più chi mi supporta i follower che mi amano chiaro però bisogna amare anche quelli perché alla fine sono persone che ti amano se ti odiano perché ti amano diciamo la verità allora personal trainer se invidiate o odiate o commentate Taylor è perché siete invidiosi di quello che fa lei è perché più seguito di voi andrò a dormire lo stesso voi un po' meno magari e fate pubblicità perché chiaramente come è successo durante l'isola dei famosi che è successa quella cosa lì quello non erano haters però l'hai creato tu un po' di gossip e roba del genere c'erano anche un sacco di haters però erano pure loro che facevano funzionare la macchina e continuano a farla funzionare quindi va benissimo sono benzina e quindi quello che ti dicevo è che comunque però quello che volevo dire io è che anche le tue clienti avendo un fisico femminile scolpendo un fisico femminile poi ovviamente hanno bisogno di vestiti e quindi le aziende che sono affini complementare quello che fai tu magari gli piace sono simili al tuo modo di vestirsi poi ti approcciano e sicuramente ti propongono sono loro che propongono collaborazioni oppure tu che le cerchi cioè come funziona questo mondo perché non è che lo conosciamo molto noi allora di solito sono loro che si propongono però diciamo che qualcuno magari poi cioè succede che magari lo vedi che è in target ti piace per esempio ci sono alcuni brand che mi piacciono particolarmente allora magari vai a scrivergli se vogliono sono interessati a collaborare quindi più la prima però anche la seconda anche la seconda avviene e diciamo si possono dire quali sono tu hai detto che questo è uno dei tuoi introiti principali giusto? a grandi linee in percentuale qual è diciamo la fetta che percentuale di fetta d'introiti ti porta a questa parte qui? allora va a cicli in realtà perché c'è stato il periodo secondo me in generale comunque tutto c'ha un inizio un percorso una fine no? e quindi c'è stato un periodo in cui le serate erano l'entrata principale un periodo in cui Instagram è stata l'entrata principale un periodo in cui l'applicazione era stata l'entrata principale e in questo momento è un po' ma io direi un 50-50 dai visto c'è un po' un po' di tutto sì comunque ma poi c'è stato anche un altro periodo in cui la tv per esempio era l'entrata principale adesso magari più forse influencer marketing e sono curioso ma cosa dici? lui che fa i conti diciamo vabbè ok ok bene 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 noi ci piacciono i conti quando si parla di soldi ci piace molto domanda poco fa hai detto che la tv era l'entrata principale in che senso queste trasmissioni pagano per andare da loro? non tutti non tutti tante persone vanno vanno a gratis perché magari sono innamorati della televisione o comunque vogliono farsi vedere in piace le vanità e magari non portano traffico quindi ovviamente non portando traffico le tv dicono perché io ti devo pagare cioè ti do già un recipiente dove farti vedere come si dice un contenitore sì un mezzo mentre io che comunque portavo traffico cioè porto tuttora in realtà traffico e e facevo sempre un po' di show non so perché qualsiasi cosa dico a quanto pare fa scalpore non mi dovrei pubblicare questo podcast allora c'è una cosa tipo dalento naturale evidentemente e quindi ovviamente portava gli portava audience e e pagavano e pagano tuttora oggi si faccia dell'ospitate ecco pagano adesso ho un po' cambiato il mondo televisivo quindi adesso vado un po' meno ecco in tv per quello ok e immagino immagino da quello che dici che tu abbia un margine altissimo nel senso che i costi di questa attività che io penso tu hai un app di fitness il fitness hai un app giusto o ci sono altre tipologie di servizi no no è un'applicazione adesso stiamo lavorando sul nuovo progetto per ora ancora preferisco non espormi finché non va a 300 all'ora non dico niente non mi porto sfiga assolutamente però c'è un altro progetto intanto speriamo vada bene comunque per il momento sì mega fitness è un'applicazione cioè solo lei ok quindi abbiamo la parte di influencer marketing possiamo chiamarlo così a livello quindi tu volevi chiedermi i costi allora io da quello che vedo secondo me tu hai un 80% almeno di margine perché non vedo costi vedo costi molto bassi su questi allora su mega fitness in realtà abbiamo tutto un'equipe di videomaker che ha un bel costo quello poi abbiamo hai un'app sviluppata dagli sviluppatori appositamente per te però lì abbiamo pagato una tantum e vabbè ogni tanto se c'è da fare qualche lavoro ma è molto difficile poi abbiamo tutte le persone legate all'assistenza ok e e poi abbiamo vabbè il personal che mi ha aiuto ovviamente a fare tutti i workout bravissimo lui tra l'altro e le strutture dove giriamo i video un po' di costi ci sono ci sono un po' di persone anche dietro poi prima avevamo molte più figure adesso forse qualcuno è meno però sì quindi diciamo che hai fatto fuori qualcuno l'applicazione sì l'applicazione l'applicazione c'ha un po' di costi non è così e quanti utenti attivi avete più o meno indicativamente questi pagano mensilmente giusto perché è un Netflix è una membership 5.000 più o meno 5.000 utenti attivi ok fantastico e poi avete l'influencer e poi avete la parte hai la parte avete la parte della televisione e tutto il resto ora la domanda diciamo scusami i costi ecco su un mega fitness magari ci sono però anche lì cioè probabilmente un'azienda quanto farà di costi dipende molto il settore no però se vediamo che nel food chi fa bene sono un 25% 20% di costi o di utile di utile perché comunque è un mercato di massa ma anche il tuo mercato di massa però secondo me tu hai molti più utili almeno tutte le aziende hanno il 70% di costi no? dipende dipende la fase io per dire quando facevo mezzo milione all'anno facevo 90% di utile perché ero da solo però ero un herpes ovunque la mia faccia era un herpes poi chiaramente aumentando riduci sempre adesso noi abbiamo un 40-45% di margine in questo momento però siamo un'azienda liquida digitale per lo più digitale però le aziende digitali hanno sempre meno costo capito sto parlando magari di un'azienda che fa che ne so che fa case anche lì c'è un botto di costo dipende il modello anche lì dipende però tendenzialmente un'azienda ci sono anche aziende che hanno il 2% molte aziende che fanno acqua naturale hanno il 2-3% di margine a parte sentivo acqua santana il 30% mi sembra il 30% di utile che è enorme perché hanno una bella strategia di vendita marketing insomma però dipende molto i settori sono settori che hanno proprio iper di massa iper volumi ma hanno piccolo no io ci avrò di costi alla fine se io TaylorMega hanno un'applicazione così avrò 30% di costi quindi buono super business 30-40 ok e ovviamente la domanda stavo dicendo sorge spontanea quanto guadagna TaylorMega? TaylorMega guadagna sempre troppo poco rispetto a quanto vorrebbe quello sempre fantastico ma a grandi linee si può dire a grandi linee no dai ma andiamo nel dettaglio ok va bene ci tornerò fra poco ci riproverò a tornare all'attacco fra poco sai che non lo saprei nemmeno io questo momento non ci credo non ci credo vabbè quello che so è che comunque te la passi bene secondo me da quello che vedo nei social insomma quello che vedo in generale te la passi bene e senti tu adesso potrei passarmela meglio esatto hai detto questa frase qui poco fa ne abbiamo cominciato a parlare un po' prima del podcast ti dico sempre ragazzi che ci ascoltano noi partiamo sempre prima del podcast e cominciamo a parlare diventa un altro pre-podcast quindi ci siamo fermati un attimo adesso ti vuoi approfondire questa domanda tu hai detto che non sei mai contenta che è una cosa che dico anch'io e ci siamo un po' confrontati prima su questo ma cosa vuol dire per te non essere mai contenta per me è un tratto dell'1% allora per me invece non essere mai contenta è essere appunto sempre al 99% perché ti manca sempre quel qualcosa per essere veramente felice e non essere mai contenta vuol dire che se ti poni degli obiettivi anche il giorno in cui li raggiungi magari sono obiettivi impossibili non sei mai contento perché sposti sempre la palla un po' più in là e questa cosa ti crea anche un po' di conflitto interiore comunque di frustrazione quindi poi alla fine non è che sia proprio il massimo della vita non essere mai contenti può essere sia un lato positivo del tuo carattere sia un lato negativo perché rischi di non accontentarti mai in niente e quindi di non gioire mai il lato positivo è che alla fine questo è il il motore che ti fa sempre andare avanti e ci puoi fare un esempio in cui tanto per dare un contesto quando tu hai raggiunto un bel obiettivo e poi dici adesso voglio arrivare a X e non sono più contenta beh allora dai sicuramente anche su fatturato sempre per vivere un obiettivo quindi ci vabbè poco di anno e anno li raggiungi sempre gli obiettivi di fatturato beh no non sempre oppure beh ti faccio un esempio banale quindi sai quanto guadagni quindi sai quanto guadagni visto che li controlli eh no ma ti ho detto non so cosa dire allora un esempio stupido è quello degli orologi cioè che ne so magari stai in attesa per un anno per avere un orologio che tu dici bellissimo stupendo ti arriva e dici sì però adesso voglio quell'altro cioè quindi non te lo godi mai al cento per cento vero quello è vero è successo anche a me nel senso del mio quattro è un esempio stupido quello degli orologi però così in qualsiasi cosa ci stavo pensando all'ultimo che ho comprato ho comprato un cartier l'ultima volta ci può tu hai detto che non ti piace la dinascente mi sono fatto sempre la dinascente perché il cartier si trova lì che cartier ti hai preso ho preso quello classico Santos Santos acciaio e oro acciaio oro mi dici sempre che vorrebbe che che glielo prenda non so perché sta fissando questo Santos è bello è lì lo trovi credo lì l'ho trovato subito non mi fai impazzire non ti fai impazzire comunque per avere uno diverso dal solito e appena lo compri già pensi a quello dopo io lo vedo che lo fa mia moglie quando compra che non so una borsa abito che anche te piacciono le borsa magari parliamo anche di questo tu mi piacciono tutto quello è il tuo problema non è un problema la cosa è bella vogliamo avere tutto nella vita vogliamo avere tutto e ci sta nel senso che prendi una di queste cose che diciamo con un altro ospite che abbiamo avuto qui Leonardo Leone dicevamo è una medaglia queste sono medaglie dove dici mi do una pacca sulla spalla per il lavoro che ho fatto non è però quella la felicità nella vita giusto però già pensi a un altro e quando tu quanti orologi di lusso hai adesso hai un Rolex mi sembra giusto sì ho visto un Patek sì me lo dovevi mettere quello oggi per venire cavolo bello del Patek horrorosa ma io sono dei tono dai non è male mi piace più il Patek sì sì ma dai non posso sbilanciarmi troppo se no dopo non mi vendono più niente no io li amo tutti bellissimi ma tu li prendi tu hai detto che attendi perché li prendi dal listino eh sì ah sì ok anche il Patek l'ha preso dal listino sì ovviamente beh anche lì devi diventare cliente insomma devi far voler bene io poi i poverini li stalkero tutti poi mi fai sapere come si fa non stalkero nessun uomo solo le persone che mi che mi vendono gli orologi magari sono commessi uomini sì i poverini però devono comunque subire la rottura di palle sì ma guadagnano anche loro non ti preoccupare e quindi beh quanti no ma ti dico ho De Mar c'ho Patek Rolex c'ho anche un Cartier hai un po' di orologi no? sì mi piace io lo vedo come un investimento è un investimento cioè se un futuro dovesse andare tutto male andrà tutto male basta non me ne sapererò mai dai miei orologi esatto e non andrà e non andrà niente male comunque detto questo insomma non ti accontenti mai non ti accontenti mai per me è una cosa positiva mi sembra di capire che tu non la vedi molto in modo positivo questa roba qui allora perché che in realtà come hai detto tu appunto che hai detto che non ti accontenti mai però in realtà per esempio ti sei sposato quindi quella cosa diciamo che tu la vedi come una cosa che va bene fatta no? io magari anche da quel punto di vista non mi accontento mai ma la verità è che non mi accontento di me stessa e quindi poi riverso appunto sugli altri magari questo mio modo di pensare che è sbagliatissima è sbagliatissima ok quindi tu stai dicendo che non ti accontenti magari o magari non ti sei mai accontenta finora della persona che hai trovato al tuo fianco sì esatto perché cerchi sempre qualcosa in più giusto? cioè per farne uno che vada bene a me ce ne vogliono cinque magari non hai trovato quello giusto ancora possiamo dirlo ragazzi chi ci segue Taylor è single singolissima attirate la sua attenzione e magari avete qualche chance difficile anche in questo difficile anche in quello sono difficilissima io dico sempre è difficile essere a me vabbè penso che questo attira ancora di più chi si sta ascoltando no ma va ma la gente non c'ha voglia di impegnarsi troppo magari c'è quello che c'ha voglia che ne sai poi e poi cambia tutta questa percezione ma è un lavoro eh H24 è chiaro è una relazione secondo me è un lavoro quindi quello che stai dicendo è che tu vorresti una famiglia vorresti ok quindi vorresti una famiglia ma ancora non è arrivata allora in questo momento infelice perché tu vai sempre oltre vorresti sempre di più giusto? allora diciamo ma sono stata un po' sfortunata in amore sono sincera perché magari quella volta che poteva andare bene succedeva qualche sfiga però in questo momento della mia vita comunque ecco essere donna è difficilissima perché tu per esempio no ma perché lavori magari lavori per raggiungere i tuoi obiettivi per avere una stabilità economica no? perché poi domani appunto se dovessi avere una famiglia io sì ok c'è il partner ma vai a sapere tu oggi c'è domani non si sa cioè devi fare affidamento solo sulle tue forze no? questo è il mio pensiero il mio mindset e tanto complimenti perché non è quello di tutti no? anche questo da un per cento molte donne non la pensano così ma perché vedo che adesso vedi tutti divorzano metti che uno dopo il divorzio poi magari si cioè si si mostra per quello che non è cioè per quello che non era prima e quindi sempre meglio comunque fare affidamento sulle tue forze quindi questo stavo dicendo perché volevo arrivare al punto dove io in questo momento magari che mi sento stabile economicamente e che potrei avere una famiglia mi è stato detto che magari è un po' più difficile avere figli no? mi è stata detta questa cosa e poi è già difficile trovare un partner mi dicono pure che è difficile avere figli ancora prima pensiamo a trovare il partner poi dopo magari penseremo però ecco la famiglia si la vorrei in questo momento però è difficile comunque coniugare la famiglia e il lavoro difficilissimo per una donna indipendente chiaro e questo è molto bello perché tu sei una donna indipendente no? cosa consiglieresti le donne che vogliono essere come te che vogliono essere indipendenti a livello economico che vogliono crearsi un proprio progetto una propria proprio stile di vita vogliono impattare in qualche modo la vita degli altri perché alla fine chi vende tu vendi programmi di fitness tra le varie cose oppure vendi fai pubblicizzi un prodotto di qualità aiuti le persone comunque cambi la vita delle persone in qualche modo no? si è una cosa che mi rendo orgogliosissima è la cosa che mi piace di più perché sento proprio che do un apporto positivo alle persone che mi seguono che sono iscritte a Mega Fitness comunque un consiglio che posso dare in realtà sono due consigli perché dipende dalla strada che vuoi intraprendere purtroppo cioè avere sia l'indipendenza e puntare a a migliorare sul lavoro insomma a fare carriera secondo me non combacia molto con il fatto di avere una famiglia perché è quello che è successo a me quindi se tu vuoi un lavoro non di fare influenzare intanto da uomini che di solito cercano sempre di metterti i piedi in testa o comunque è difficile che ti supportino al cento per cento no quando li conosci magari da giovane sempre un po' gelosi quindi non farti influenzare in nessun non farsi influenzare in nessun modo da questo punto di vista e guardare sempre avanti al proprio obiettivo cioè tu vuoi quella cosa ok basta non non devi sentire nient'altro devi guardare quello e fare di tutto per arrivare se invece vuoi far famiglia allora è meglio se la fai prima dei trent'anni perché dopo comincia a risultare difficile ma più per un da un punto di vista fisiologico ok e tu hai provato a fare a portare avanti una relazione immagino di sì durante questa no questa la creazione scusami una cosa stiamo parlando ovviamente di carriera lavorativa cioè perché uno può fare qualsiasi carriera però magari puntare a livelli molto alti è un po' difficile cioè è molto difficile far combaciare le due cose questo volevo dire chiaro chiaro senti ti faccio un'altra domanda in questi in questi anni da quanti anni è che tu sei partita mi hai detto il 2017 in due anni hai detto il 2016 ti avevo bloccato l'account sì il 2017 più o meno proprio da poco quindi in pochi anni hai fatto un bel un bel salto no domanda che sorge spontanea che ce la fanno sempre da che diciamo da dove sei partita da quali situazioni sei partita io racconto sempre che sono un ex developer squattrinato una famiglia con quattro persone con quattro fratelli siamo figli di operai non c'è mancato mai nulla però molto umile hai avuto un apporto cosa significa developer scusa developer vuol dire sviluppato programmavo siti web tipo quelli che ti hanno creato l'applicazione mobile ero uno di quelli che smanettava però mi sono fatto da solo nel senso che l'apporto ce l'ha avuto non mi è mancato nulla però nemmeno navigavamo nel loro nel tuo caso dove sei partita cioè hai influito in qualche modo la famiglia sei stata favorita sei stata sfavorita dalla famiglia io penso che sei stata sfavorita dal il mio luogo di nascita perché comunque se pensi il Friuli è un paesino di 3000 anime cioè sei un po' ai margini della nazione no? cioè sei proprio e dico dove sono nato io è in culo al mondo è in culo all'Italia forse sì ho detto in margini della nazione per dirle in maniera elegante un po' più elegante la stessa cosa tu dove? io sono di città di castello ma anche una frazione di città di castello dove è? città di castello ha 15 mila abitanti è in nord Umbria la punta dell'Umbria coperta dagli appennini quindi è proprio anche difficile arrivarci sostanzialmente molto campagne e mentalità un po' arretrata questo è il mese peggio tu mi sa sono il mese peggio io ok vedi pochi vi battono sei mai stato in Friuli? in Friuli a sciare forse qualche volta non so non mi ricordo no il Friuli è una regione stupenda io la amo perché c'hai poche ore sia al mare che la montagna stupenda però secondo me per una ragazza come me che sempre fuori dagli schemi così cioè un po' stretto soprattutto sicuramente il paesino quindi poi allora i miei genitori erano delle persone molto umili e hanno sempre lavorato tantissimo cioè dei grandissimi lavoratori sono sempre fatti il mazzo e però insomma erano dipendenti o avevano una propria attività? una propria attività hanno delle aziende sono agricoltori agricoltori e allevatori quindi proprio lavoro pesantissimo e io li ho sempre aiutati cioè perché quelli arruolano chiunque cioè non lascio la casa a nessuno stavo un attimo sul divano a guardare la tv ma vieni 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 però è una cosa che mi è servita perché io ho sempre avuto questo mindset dove se io non lavoro sto male cioè devo per forza fare qualcosa devo avere la mente impegnata e e lavorare però appunto vengo da una famiglia umile che poi nel tempo lavorando ecco loro sono l'esempio che se lavori e ti dai da fare nella vita puoi farcela perché adesso hanno una casa bellissima stanno benissimo si sono comprati la macchina che volevano loro le hai aiutati tu o ho fatto la sola? no 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 anzi e questo ti ha aiutato questa famiglia ti ha aiutato a crescere o fatto tutta da sola? scusa mi venivano da una condizione di povertà cioè devo dirla così come non so adesso se mi mandano se mi dicono però e si sono riscattati cioè lavorando duro perché appunto l'allevatore l'agricoltore cioè non è un lavoro faticosissimo forse uno dei lavori più faticosi che ci sono e lavorando ce l'hanno fatta insomma a costruire cioè ad avverare i loro sogni e però ti dico anche un'altra cosa a me questa cosa sicuramente mi ha un po' svantaggiato perché se per esempio io fossi nata a Milano penso sempre sai comunque nasci in certe dinamiche e quindi non le cioè familiarizzi e riesci magari anche a a crescere di più e più velocemente mentre crescendo appunto in un contesto di campagna in questo paesino piccolino io ti dico la prima volta che sono andata a Udine sono rimasta colpita in stazione stazione a Udine perché dovevo andare a scuola sono rimasta colpita da tutte quelle persone cioè che c'erano tante persone tutte lì in stazione non è possibile tutto questo ero tipo poi io sono un po' sociale sono sempre stata un po' sociale sono sempre voluta un po' stare per conto mio quindi che ne so i miei mi dicevano andiamo di qua andiamo di là io no voglio stare a casa a giocare alla play cosa che tra l'altro non è cambiata di molto giocai ancora alla play quindi sto ancora a casa la play 5 immagino vorrei riesco a stare a casa con quali videogiochi gioca Taylor vediamo in questo momento God of War addirittura quello nuovo ho visto che è bellissimo li avevo finiti tutti al tempo ora non gioco più sono presissima quindi Taylor Mega che gioca a God of War sono single la sera che faccio mi metto a giocare alla play capito manganza tornando al discorso di prima che però questa cosa mi ha anche aiutato perché comunque crescendo in campagna invece sai come affrontare meglio la vita secondo me ti forma cioè crescere e poi non so a te se l'ha fatto ma a me crescere anch'io in campagna non ho mai lavorato nei campi lo dico non ho lavorato in fabbrica anche io lavoravo quando ero teenager mettiamola così però anche lì mi ha dato non so se te l'ho fatto essere in quel posto chiuso a mettere ogni tanto il becco fuori cavolo allora non è solo qui il mondo nel senso c'è un sacco là fuori vuoi andare a prendermelo è mi ha dato ancora più forza secondo me io non so se fossi stato a Milano in centro a Milano se avessi creato la mia azienda non so le mie aziende tu come la vedi in questo caso è successo anche per te oppure mi stai facendo pensare che ho imparato a guidare prima il trattore poi la macchina non è una cosa cioè non è un pensiero che ho mai fatto è che ho proprio cioè sono proprio fatta così di carattere voglio sempre di più non mi accontento mai e questa cosa ce l'avevo anche quando ero quando ero una ragazzina quindi poi è venuto tutto naturale ovviamente non mi bastava star lì devo fare qualcos'altro vedere altri posti però se devo essere onesta ecco Milano è una città che invece mi piace cioè potrei dire da quando ti abiti a Milano da sei anni sei anni e ti piace ancora sei convinta che sia la città per te giusto? sì beh no sì 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 no perché ce sto pensando magari una volta ce l'avevo pensato di andare a vivere a Dubai ancora quando non andavano tutti tipo sei anni fa però metto un po' di ansia perché? perché sempre sto caldo boh non ho molti punti di riferimento è tutto troppo freddo mentre Milano lo vedo più come casa lo vedo più calore avevo pensato anche a lei sicuramente lei è meglio di Dubai ecco il problema è che sei dall'altra parte del mondo beh non so se relativamente per te è un problema oppure no e lei tu intendi Los Angeles sì sì ma allora dipende perché magari cominci a farti una carriera là cioè questo era l'intento no il pensiero se dovessi andare a vivere là mi faccio una carriera là ok ma la vita là sarebbe da provare io invece ho Miami sono un po' più se devo uscire da Milano quella è la prossima tappa quindi Milano comunque tu lo consiglieresti come città io sono d'accordo con te se a me Milano piace da morire da morire Milano Milano comunque è bellissima però non è che la puoi consigliare a tutti cioè Milano devi avere delle belle entrate parliamoci chiaro nel senso a Milano ovviamente con uno stipendio medio è difficile hai fatica hai molta fatica e senti il tuo team è da remoto e quanti siete nel tuo team mi prima ne hai detto un po' di figure in generale quante persone sono insieme a te con questa però per quale lavoro un po' in generale quante persone gestisci anche se gestire è un termine che non mi piace però cioè quante persone mangiano con quello che fai sono da mangiare o quindici più o meno circa quindici persone e queste sono in sede a Milano o sono in giro da remoto lavorano ma no un po' dappertutto sì perché tante sono da remoto qualcuna beh per esempio il centro estetico abbiamo due ragazze sono fisse lì e poi ci sono figure un po' dappertutto ok e senti questo tutto questo esploà io penso sempre io investo tantissimi in mentori cerco sempre qualcuno che ha fatto dieci trenta volte quello che vuoi fare io e provo a seguirlo questo è una domanda che faccio sempre un po' tutti per capire un attimo anche come uno è arrivato e a volte qualcuno ce li ha alcuni no mentori ovviamente vuol dire anche qualcuno a cui ti ispiri libri che leggi qualcuno che segui assiduamente per capire per estrarre ispirazione più di uno magari tu hai qualche mentor nella tua vita in questo momento li hai avuti li avrai è qualcosa che fai allora mentori secondo me per ogni settore c'è un mentore differente però non li chiamerei mentori direi più trago ispirazione ascolto diciamo quello che intendo io un po' come un tuo cliente che segue te come allenamento una tua cliente per gli allenamenti tu sei la sua mentor è capito allora magari vedo una ragazza che mi piace molto su instagram per rivestiti allora in quel momento però vado anche lì a periodi sempre a periodi cioè non c'è una persona che prendo come riferimento su tutto quel periodo magari mi piace quella persona io sono fissata malata tipo sulla salute quindi mi metto ad ascoltare tutti i podcast no podcast vabbè video così sulla salute mi metto a leggere dice alimentazione che deve essere sì vado a periodi che ne so sulla salute magari c'è un periodo che Fabio Piccini che è un ricercatore dottore che scrive libri bellissimi tutti sulla salute lo tagliamo bravissimo tutti sulla salute poi c'è che ne so magari sulla storia mi fisso sulla storia c'è Barbero quindi ognuno ogni cosa e per quanto riguarda l'attività invece hai qualcuno che ti dice come impostarla come quali prodotti lanciare ti dà un'indicazione oppure è venuto molto creativamente nel senso allora la prima l'aspirazione deve partire da me perché per esempio Mega Fitness era partita da un mio pensiero poi c'ho un socio in quell'attività che è molto bravo ed è stato capace a buttare giù la mia idea e a farlo diventare un progetto cioè un progetto attuale e poi mi confronto sempre con il mio manager che sta poverino in H24 in chiamata con me proprio lui proprio lui e che sì ci confrontiamo continuamente sì è tutto un lavoro di squadra su tutto poi sì cerco di trarre ispirazioni da qualsiasi cosa anche magari che ne so ti vengono così alla fine magari guardi ti viene un'idea guardando un altro settore differente prendi l'idea e provi a implementarla e a proposito di questo senti quanto è importante per te il fitness tu hai mega fitness questo business quanto è importante per te il fitness per riuscire nella vita anche nella parte lavorativa cioè la salute tu sei ossessionata si può dire ossessionata che sei ossessionata ossessionata per quello anche dico che è difficile essere a me cioè io devo mangiare ad una certa ora perché se tu mangi dopo ti sballa tutto il tuo questo è quello che dico sempre anch'io quindi non è così cioè io dico sempre che io ero un ossessivo compulsivo l'ho raccontato in altri podcast ero uno di quelli che si lavava sempre quando ero giovane che non va neanche bene posso dirti come? non va neanche bene lavarsi di cose appunto infatti ero uno di quelli che ci stava troppo tempo ma tre ore quattro cioè una vita era un inferno lo racconto spesso è tipo germofobico forse si dice così anche io sono germofobico forse sì però mi lavavo tanto tantissimo infatti ho adorato il covid posso dirti come? ho adorato così non toccavi nessuno non dovevi dare più la mano a nessuno non dovevi baciare nessuno stupendo esatto anche perché a volte vedi che ne so vedi quelle cose no tipo in aeroporto persone che vanno a fare la pipì escono senza nemmeno lavare le mani non vedi delle cose che le cioè roba assura dico quello a chi darà la mano oggi no però io ero un po' troppo dove si è messo la mano prima di darla a mano eh capito cioè quello e una volta ho letto uno studio mi ricordo quando ero piccolo che il 70% dopo uno studio sui campioni presi i campioni dalle mani 80% delle persone avevano delle feci praticamente quindi ho detto cazzo è un problema però a me ha fatto un po' prima abbiamo parlato di loop positivi a me ha fatto il loop negativo cioè nel senso troppo non campavo più no troppo stroppio si dice esatto però quella era un'ossessione compulsiva mi dicevano che io ho trasformato in positiva cioè l'ho tolta da lì l'ho focalizzata su alto quindi per me l'ossessione se diretta nel punto giusto è positiva e l'ossessione per il benessere onestamente possiamo dire che positiva però quanto incide secondo te nei tuoi risultati in generale secondo me tante persone io conosco tanti imprenditori di successo che dedicano pochissimo tempo alla propria salute e a tutto quello che dovremmo fare noi come persone per allungarci la vita però allungandola rimanendo in salute con qualità adesso tutti abbiamo magari la vita più lunga rispetto ad anni fa però passiamo gli ultimi 20 anni pieni di acciacchi problematiche bene che si tappano e operazioni di continuo mentre io penso che dedicare molto tempo ma che poi non è neanche tutto questo tempo però dedicare impegno alla salute è importantissimo e dovrebbe essere importantissimo per chiunque però purtroppo le persone non hanno una coscienza una consapevolezza di tutto questo per esempio lo zucchero fa malissimo cioè tu quando regali che ne so una torta un amico così in realtà gli stai facendo cioè gli stai tu non mangi mai mangi mai torte? no purtroppo sì le mangio anch'io però cerco di ridurre almeno possibile quello che non fa male lo zucchero gli zuccheri tu pensi che noi qui in ufficio non li abbiamo mai facciamo sempre una pessima figuraccia con chi gli diamo il caffè poi non c'è lo zucchero facciamo veramente ma pure io a casa mia se mi chiedono lo zucchero mi dispiace non c'è mio cognato non viene perché lui butta tre zollette di zucchero sì e prende il caffè e dice no il caffè non vengo a prenderlo non ci vengo cioè tre zollette di zucchero esatto alla fine e quindi secondo me per tutti dovrebbe incidere molto però in realtà vabbè su di me ecco si incide molto sul risultato quindi incide sui risultati cioè se io dormo male il giorno dopo sono distrutta non riesco a fare niente e dormi male se mangi male giustamente se mangi male dormi male vabbè io c'ho problemi di insonnia quindi non dormo benissimo a prescindere però l'allenamento anche quello incide molto nel mio caso incide molto l'allenamento anche perché lavoro col mio fisico e e senti ogni quante volte ti alleni durante la giornata una volta ho fatto un reel che è andato a virare esploso lo dico sempre ho fatto sempre questa domanda a tutti quanti perché mi sono un po' sorpreso ho detto in un po' di cast che mi svegli 5 e mezzo di mattina tutte le mattina o quasi nel senso cerco di fare tutte le mattine poi c'è la volta alle 6 presto 10 10 un quarto massimo se vado alle 11 già mi devo sveare un po' più tardi bravo esatto noi siamo proprio ossessionati nel senso siamo molto in linea su questo e il mio team deve essere uguale non è che deve essere come me però la salute e il benessere molti perdono chili quando vengono con noi magari sono in soprappriso ho detto una cosa ma anche per il datore di lavoro avere un team in salute è importante perché ti fanno ovviamente meno assenze e sono più produttivi è importante anche più contenti felici più cazzuti diciamo è vero e quindi ho fatto questo reel dove alle 5 e mezzo mi alzo l'ho detto anche un po' l'ho detto con sicurezza sicuramente quello gli haters e quelli qua gli haters arrivano fuori quando dimostri sicurezza che non è sicurezza non è arroganza è sicurezza che vuol dire umiltà secondo me allora è comunque esploso quando abbiamo fatto un milione di visualizzazioni un milione e mezzo due ma che dicevi dicevo mi sveglio alle 5 e mezza mi faccio la mia vision imposto gli obiettivi a lungo termine poi mi alleno faccio colazione dopo essermi allenato sto mezz'ora dopo essermi allenato sempre e faccio crossfit ok adesso meno intensamente però lo faccio sempre e poi sto mezz'ora con i figli poi vado al lavoro alle 8 e 20 sono lì mentre gli altri ancora sbadigliano e figli? ho due figli erano 4 anni 1 a 7 mesi è appena nato e quindi mi hanno attaccato perché poi dicevo mentre gli altri sbadigliano gli altri chiaramente qualcuno mi diceva il mio team non è il mio team che sbadiglia sono gli altri nel senso i competitor le altre persone e io sono già in call questo è quello che dicevo qui dentro a parte questo però che è andato virale tu che ora ti svegli la mattina poi è la tua routine guarda che questa cosa del sonno è importantissima tutti abbiamo un nostro ritmo circadiano quindi in realtà non tutte le persone sono fatte per svegliarsi presto al mattino perché se tu per esempio il tuo cervello lavora molto bene a quell'ora non è detto che le altre persone riescono ad avere gli stessi risultati anzi se per esempio il tuo il tuo fisico ha bisogno di dormire tu ti svegli a quell'ora fai malissimo al fisico quindi non è per tutti io mi sveglio quindi detto questo tu parli di ore di sonno o proprio l'orario di sonno proprio l'orario per andare a dormire e l'orario per svegliarsi perché in quel momento lì magari alle 5 e mezza che ne so i miei organi stanno lavorando per risanare il fegato per dire cioè ogni ogni ora c'ha un qualcosa in cui in cui il tuo fisico lavora per quindi tu mi stai dicendo che a prescindere dall'ora in cui vado a dormire comunque io che ne so alle 4 ho sempre quel quel ciclo dentro di me in base alla mia struttura biologica sostanzialmente giusto? esatto quindi quindi non tutti in realtà va bene che si svegliano alle 5 e mezza magari fanno malissimo al loro fisico io mi sveglio ho detto questo soffro di insonnia quindi devo andare a dormire devo essere tipo a letto così a leggere alle 11 e mezza per addormentarmi se Dio vuole che me la manda bene quella sera a mezzanotte e mezza e mi sveglio alle 8 e mezza ma io sono talmente ossessionata che ho l'anello per misurare le ore di sonno l'Ura Ring l'Ura Ring so che anch'io ma dopo due volte che l'ho preso non funzionavo ho smesso di comprarlo non funzionavo smetteva di funzionare stranissima ho preso la misura sbagliata perché guarda che questo mi credi tutte le persone di successo che conosco ce l'hanno io l'ho comprato il primo 4 anni fa e dopo volevo fare cattiva pubblicità l'Ura Ring però questo è quello che mi è successo e lo consiglio ce l'hanno anche i nostri venditori comunque la prima volta dopo un anno ha smesso di funzionare quindi per un anno ha funzionato ho comprato quello nuovo il 2.0 era e dopo 3 mesi 4 non funzionava non si ricaricava non è che non funzionava non si ricaricava stava carico per 20 minuti io ce l'ho da un anno e mezzo eh vedi magari poi c'ho quel riprovo il misuratore dell'indice glicemico giusto ce l'avevo anch'io ma ultra human no è un altro è una società americana ma vedo che mandano sempre lo stesso dispositivo della stessa azienda sì eh free quello con la scatola gialla giusto poi vabbè l'Apple Watch l'Apple Watch non lo metto perché mi fa cagare non posso tenerlo proprio ce l'ho ma l'ho comprato una volta ma mi fa proprio schifo non riesco a metterlo su di me mi sanno troppo perché mi resta sempre così però posso dirti guarda che anche lì sì cioè un sacco di persone che tipo hanno i miliardi sì mettono l'Apple Watch neanche in realtà prendono uno mi sa del Garmin che è quello che funziona più di tutto ma non è il fatto di soldi non è per sfoggiare no però è per dire che comunque è una cosa che in realtà cioè figa quindi tu lo metti l'Apple Watch lo utilizzi per il battito giusto per allenarti per allenarmi di solito i giorni che mi alleno ce l'ho su tutto però oggi non hai l'Apple Watch oggi non mi sono allenata ok no però quando vai in giro non hai l'Apple Watch non l'ho visto nei social perlomeno sì sempre continuamente sto sempre ce l'ho sempre su ok tengo un po' meno adesso perché mi sa che mi sta facendo venire un po' di epicondilite comunque tu adesso anche il dispositivo ce l'hai in questo momento comunque ti consiglio questo libro vediamo se lo riguarda Matthew Walker mi sa si chiama perché dormiamo linkiamolo sotto nella descrizione ragazzi ti consiglio Matthew Walker perché dormiamo e lì ti fa capire tutte queste cose sul sonno e quanto è importante il sonno e in realtà la cosa migliore però sarebbe fare come fai tu ovvero andare a dormire presto e svegliarsi presto in realtà sì con la luce del sole sarebbe il top che adesso è un po' tardi quindi bisogna stare attenti però ti volevo dire tu adesso quindi stai anche misurando l'indice glicemico in questo momento e come fai nella mia curiosità come fai l'estate perché l'ho messo un'estate e mi sono messo tutte le foto con la peccetta ma fa figo vuol dire che se uno che ci tiene è alla salute in realtà secondo me è una cosa bella sì è brutto si prende il sole si prende il sole sotto ma che se ne frega tanto se rimane no è una cosa cioè io se vedessi una persona con questo cerotto direi ah un altro malato come me oppure diabetico perché ci sono anche i diabetici che lo utilizzano certo vabbè comunque quella non è una scelta deve farlo per forza però va bene ottimo quindi sono contento che si è allineata ovviamente quello che sapevamo perché insomma sei uno che si occupa di fitness e a proposito di fitness come è nata e quando è nata questo business e come l'ho lanciato nel senso io credo ovviamente hai già un seguito hai visto quello che puoi dare a tua audience che come si fa di solito e la cosa che potevi dare era qualcosa che già facevi l'audience ne aveva bisogno hai matchato le due cose questo è come la vedo io com'è stata cioè nel senso allora è nata durante il covid infatti il covid lo odiano tutti ma io non cioè non mi sento di c'è chi l'ha usato come opportunità esatto per me è stata un'opportunità quindi durante il covid io ero fidanzata con un ragazzo in quel periodo eravamo appena tornati dalle Maldive e dovevamo rimanere chiusi in quarantena era proprio pesante e mi hanno detto vabbè approfittiamo di questo periodo per allenarci ma è tipo una cosa andata così spontanea per allenarci bene insomma metterci bene in sesso almeno comunque ti alleni e pubblicavo video di questi allenamenti e vedevo che le ragazze tutte mi chiedevano ma pubblica un allenamento intero ti prego Taylor metti l'allenamento intero quanti follower avevi al momento per dare un contesto più o meno eravamo lì stiamo parlando di tre anni fa Fiderizzata in televisione sì 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 e quindi vedevo che c'era questa richiesta però non riuscivo a caricare ovviamente il video completo nelle storie quindi c'era questo questo ragazzo che all'epoca non era ancora così forte come adesso a livello di a livello imprenditoriale e siamo un po' cresciuti insieme su questa cosa e lui voleva fare un progetto con me tipo vendere magari corsi su come diventare influencer poi ho detto ma questa non mi sento che è una cosa che mi gratifica io vorrei far stare bene le persone vorrei aiutarle ad allenarsi a capire qual è l'allenamento migliore per loro vorrei aiutarle a farli capire quali allenamenti fare e e da lì abbiamo cominciato a strutturarla all'inizio era fatta malissimo non era come tutte le cose la prima volta però vedevo che c'è cazzo no le ragazze piaceva tantissimo cioè si prendevano bene e quindi poi da lì l'avviso è messa in vendita oppure era gratuita ancora no all'inizio all'inizio abbiamo fatto una settimana di prova no non abbiamo fatto la prova gratuita all'inizio all'inizio si era subito l'abbiamo messa in vendita c'era un bel interesse e da lì poi l'abbiamo migliorata sempre di più è piaciuta insomma è andata bene l'hai cresciuta nel tempo sì nel periodo di covid era esplosa perché appunto le persone stavano a casa e quindi lui e questo ragazzo che cura il marketing che cura i carrelli no mega fitness basta ok ok e quindi da lì dopo due o tre anni siamo quant'era il covid prima primo lockdown quindi quattro anni fa no era mezzo ci avevano liberato dal primo lockdown è partito lì in quell'estate ok e e poi lì è andato e le persone poi ci hanno anche rimesso in lockdown che non era il primo lockdown le persone stavano a casa cosa facevano si allenavano per forza il boom di allenamento e tu ci hai creato un business in quel momento giusto senti ho visto che recentemente ti sei laureata nonostante a livello lavorativo economico tu te la stia già passando bene no con duro lavoro con rischi tutto quanto qual è il motivo di una laurea qual è lo scopo nel tuo caso non solo per prenderla o a che fare con il tuo percorso i tuoi obiettivi a livello imprenditoriale allora questa te la dico poi vediamo se lasciarla c'era un amico di mio papà che gli diceva sempre pensa che pure il più stupido dei miei figli sia laureato volevo anche pure i miei persone dire una cosa del genere pensa che voi quanti fratelli siamo i tre sorelle tre sorelle ok io ero la pecora nera che non eri laureata ancora no la pecora nera in generale le fate patire poverini le perine dell'inferno sei la più giovane? no sono la mediana la mediana però era sì un sassolino che volevo togliermi e poi comunque un interesse anche psicologia cioè sono una che si informa di continuo gli piace leggere studiare studiare un po' meno mi piace tanto leggere e e quindi ho pensato bene che cioè io ti dico sempre se dovessi morire domani vorrei essere contenta di tutto quello che ho fatto cioè voglio dire di aver fatto tutto quello che volevo senza se senza ma esatto la laurea era una cosa che volevo fare prima di morire bellissimo come tante altre cose tra l'altro quindi anche questa come io il matrimonio questa tu l'hai spuntata esatto io mi manca il matrimonio mi manca una bambina vabbè quella arriverà arriverà al 100% senti cambi un po' di discorso Taylor tu sei stata mi hai detto all'isola dei famosi e sei stata poco una settimana mi hai detto vero e da lì però in quella settimana hai raccontato delle cose su di te che nemmeno tua mamma sapeva hai anticipato poco fa ti va di parlarcene? sì io come tutte le cose mi ossessiono e divento cioè tipo devo fare quelle cose di continuo e così è andata anche con le droghe ne ho provato di tutti i tipi poi alla fine quanto anni avevi più o meno quanto è successo? allora ho cominciato fumare fumare canne a 14 anni però pesantemente cioè tipo 5 al giorno così cioè una roba stavo sempre fuori di me comunque non ero mai molto lucida poi ho avuto un'esperienza traumatica e io in quel momento però non sapevo che avevo vissuto un'esperienza traumatica e quindi poi era arrivata la depressione e cercavo di far fronte a questa depressione senza sapere di essere depressa con con le droghe di tutti i tipi io non volevo pensare a niente comunque c'ho scritto un libro anche su questa cosa come si chiama il libro? si chiama La bambina non c'è più tra l'altro avrei voluto scrivere molte più cose ma la casa editrice voleva pubblicarlo e quindi alla fine dove si può trovare il libro? nelle librerie o online? non so se si trova ancora nelle librerie perché l'ho fatto mi sa anche quello un tre anni fa però sicuramente su Amazon sì e quindi ho cominciato a farmi di tutto e poi di eroina e poi però ne sono uscita e appunto andando all'isola dei famosi avevo capito che stava uscendo la qualunque su di me cose inventate cose non inventate e sarebbe uscita anche questa cosa penso in una settimana e ho detto però è inutile che i miei lo scoprano da altre persone a sto punto è meglio se lo scoprono da me no? anche perché è una cosa mia è giusto che la dica io e quindi niente l'hanno scoperta così direttamente e quindi tu sei passata dalle canne scusami a? ti faccio l'elenco no? diciamo qual è il il periodo il passo successivo alle canne vabbè penso alle medie ok e il periodo peggiore quando è stato dove avevi 14 anni quando è iniziato poi più o meno a che età si è l'apice e poi 17 anni così ho cominciato a farmi di eroina la domanda sorge spontanea oggi sei una donna in carriera che hai soddisfazioni obiettivi li sta raggiungendo sempre di più come sei uscita dall'eroina perché comunque cioè nel senso non tutti ci riescono ma comunque è qualcosa che è un bel cambiamento intanto non mi riconoscevo più avevo mezza testa rasata ma tu non come andava cioè tu magari immagini un po' la rasatura come andava quella volta no mi sono proprio rasata mezza testa una pazza pazza totale e cioè ti immagini per così ma io ci avevo pensa tu io tutta quanta ho rasata tutta e dall'altra parte avevo i capelli lunghi non mi riconoscevo più quando mi guardavo e poi comunque anche quando smettevo mi arrivavano le botte dell'astinenza solo che io non sapevo che quella fosse l'astinenza ma l'astinenza è bruttissima l'astinenza d'eroina è una cosa una cosa proprio ti senti ti senti il freddo te lo senti addosso nelle vene la nausea l'angoscia tipo delle canzoni in loop non so se hai mai visto train spotting si su train spotting c'aveva le immagini in loop io c'avevo un suono in loop questa cosa è bruttissima comunque è stato di fatto che poi a un certo punto avevo capito e ho detto io se continuo così non arrivo ai vent'anni mi ero schifata di tutto mi ero nauseata di tutto ho tagliato i punti con chiunque che frequentavo in quel periodo e che anche loro insomma facevano uso e ho detto basta devo smettere ed è una cosa che comunque vedo che faccio con con tante cose cioè che ne so mi prende il vizio di girarmi i capelli adesso ovviamente non è paragonabile però tipo una cosa che hai e poi di punto in bianco basta stop fumare la nicotina che poi alla fine è una toscodipendente anche quella noi non prendiamo persone che fumano qui dentro che lavorano con noi ho detto basta comunque fumavo svapo non era sigaretta nemmeno le pippette come le chiamate esatto e anche lì basta ho detto smetto stop sono state difficili all'inizio cioè all'inizio è stato difficilissimo dico l'eroino pure la nicotina comunque non è stato facile e adesso non fumi no ok e pure l'alcol comunque è una dipendenza ha avuto anche l'alcol come dipendenza no quello no per fortuna però essendo friulana comunque quando ho deciso è facile comunque ho fatto tre mesi senza alcol e mi sono accorta che è difficilissimo smettere tu bevi? sono a stemia è a stemia? sì madonna bravo complimenti non c'è niente è grande pensavi sì no sono a stemia per scelta sembra una stronzata ma anche l'alcol l'alcol è una dipendenza e anche quello non è facilissimo smettere certo però più facile di tutte le altre secondo me più anche della nicotina dici più semplice più semplice smettere con l'alcol madonna cioè una passeggiata con fronte alla nicotina è una cosa che magari non ti fa un male fisico ma mentale la cerchi sempre e quindi niente così ho smesso con l'eroino non è stato facile però avere la mia famiglia vicino avere una bella famiglia mi ha aiutato molto cioè lì ho preso consapevolezza le sorelle sapevano al tempo nessuno sapeva no mia sorella più piccola un po' l'ho fatta disperare perché un po' capiva e ci stava male però ecco lì ho preso consapevolezza di quanto fosse bella la mia famiglia che non è una cosa da poco avere una famiglia è un lusso che purtroppo non tutti hanno ma è una fortuna enorme sono d'accordo 100% senti parliamo di haters visto che noi promuoviamo sempre il nostro I love haters e adesso che abbiamo cominciato a rispondere ai nostri haters noi parliamo di soldi soldi fatturato vendite mettiamo le nostre trattative online che vendiamo è sempre tutto finto è sempre tutto aggressivo sbagliato cioè gli haters sono tanti dico però sempre 50% delle persone ti odia puoi essere eletto come presidente giusto questo è come io vedo le cose ma tu come li vedi gli haters come li tratti quanti ne hai comunque tanti i miei video vanno virali solo perché ci sono persone che mi insultano ma poi avessi detto cioè io nella mia vita insomma non è che penso di aver detto nulla di male o di aver offeso categorie in particolare no quindi anche questo odio nei miei confronti sinceramente tante volte io lo vedo e dico ma perché cioè è motivato e ho riuscito questo video ma per farti capire cioè l'odio che hanno nei miei confronti che non si capisce per partito preso così cioè ho fatto questo video dove dicevo che la pasta al tonno col pomodoro fa schifo scusa dovevi vedere gli insulti che ho preso sotto quel video è come il mio dei 5 e mezzo anche io avevo haters è per quello che è andato via però tu magari una mezza provocazione l'hai fatta io ho detto perché a me fa schifo la pasta ma guarda che gli insulti ma gli insulti pesantissimi poi essendo una donna dimmi la verità quanta percentuale di donne hai che ti insultano no io ho più gli uomini che mi insultano gli uomini oh stanno avvelenati non so perché cioè poi ti insultano anche solo perché sei donna bruttissima questa cosa comunque ti dirò io rido perché dico cioè fanno pure ridere tanto sono sincera questi insulti questi commenti non mi toccano però magari sai c'è la giornata no in cui sei un po' giù di umore in quel momento e poi ci pensi ecco però la maggior parte delle volte cioè 99% delle volte dico poverini no no va bene va bene fai commenti di merda che tanto poi aumenti l'engagement ok vedi questo è una cosa da sottolineare far rivedere 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 il loop perché chiaramente molti ti dico noi ci occupiamo di marketing online tra le varie cose vendita marketing online leadership per i temi di vendita insomma aiutiamo le aziende in vari modi CRM software ma uno dei blocchi che vediamo più forti di quando un'azienda piccola grande media deve pubblicare online è la paura del giudizio degli haters che arrivano gli haters tu cosa tu come l'hai vista questa cosa qui cioè pensavi sempre come io vedo parlo con la Taylor di adesso giusto ma pensavi come adesso quando sei partita oppure all'inizio hai avuto più difficoltà e se sì come l'hai superata allora c'era una frase che diceva se piacessi a tutti sarei un gelato l'hai sentita? sì o non diceva così diceva così vabbè comunque si capisce e no all'inizio anzi all'inizio provocavo appositamente tipo cioè sapevo un po' quali erano le cose che davano fastidio cioè che danno fastidio tipo che provocano e schiacciamo molto sull'acceleratore su queste cose mentre adesso sto un po' più tranquilla molto più da perdere adesso rispetto all'inizio però all'inizio anzi e tu cosa consigliereste quelli che hanno un blocco adesso in questo momento che lo so che ce l'hanno ormai li conosco bene anche chi ci segue adesso chi ci segue ha un blocco a volte anche nella vendita io insegno la vendita quando vai a vendere a volte la paura del rifiuto no tu hai detto poco fa che no ma sta cosa qui comunque io tuttora ce l'ho cioè la paura del rifiuto la paura del fallimento come l'affronti tutti hanno paura cioè tutti i grandi imprenditori hanno paura del fallimento però sai d'accordo con me che è come si radisce la paura che fa la differenza tra un imprenditore e l'altro o no o la penso in modo differente allora io ho paura di qualcosa cerco sempre di di affrontarla questo è il mio mindset su tutto cioè che ne so avevo paura di buttarmi in colpa la caduta e dovevo buttarmi poi alla fine non avevo neanche paura l'hai fatto quindi poi? sì a Dubai no l'ho fatto a Firenze sopra Firenze stupendo quindi come affrontare la paura del fallimento del rifiuto ma poi posso dirti ma buttati tanto alla fine cioè se va male io dico sempre male che vada almeno ci hai provato e sai che è un no esatto che può essere su qualsiasi cosa se non lo fai non saprai mai il risultato così almeno lo sai e magari puoi anche cambiare modalità di approccio magari nella vendita stai parlando di vendita e capire qual è la cosa che magari non andava bene e riprovi chiaro hai colpito nel segno perché la vendita è questo fare tante interazioni ogni volta non come una mosca ma ogni volta capisci cosa è sbagliato sì il fallimento diciamo che è un'opportunità di crescita perché se tu riesci a capire qual è la falla nel tuo sistema e la migliori poi poi ce la fai e questa sembra una sottila è facile da dire però poi so che è difficile da mettere in pratica esatto è quello che stavo dicendo nel senso l'ha detta come se niente fosse però è la cosa che fa la differenza secondo me tra tanti persone che ottengono i risultati che vogliono nella vita e altre che non lo fanno che si fanno bloccare per una vita interna da quella piccola cavolata che poi magari non vai a fare nemmeno succede o se succede chissà sbaglia chi fa comunque chi non fa niente non sbaglierà mai esatto quindi prova alla fine e poi sì ci sarà sempre quello che dice ah gli è andata male quell'altro sì ok però intanto ci ho provato magari questa gli è andata male quella dopo gli va bene quindi ragazzi non avete paura degli haters buttatevi insomma lo dice anche Taylor e senti Taylor quali sono i tre errori che tu hai fatto a me piacciono molto i errori i tre errori che vuoi evitare che eviteresti oggi guardando indietro quello che hai fatto il mio manager no dai no posso dirti che adesso sembro magari sbruffona o non abbastanza autocritica in realtà sono molto autocritica ma se dovessi tornare indietro rifarei tutto nello stesso identico modo in cui l'ho fatto non c'è una singola cosa che cambierei di tutto quello che ho fatto nella mia vita zero perché tutto quello che ho fatto mi ha sempre portato a un qualcosa di positivo o comunque a una crescita personale tutto qualsiasi cosa ma anche le cose più brutte mi hanno cioè non sarei qui dove sono adesso se se avessi cambiato qualcosa magari sarei meglio lo scherzo no può essere però nel senso non si può sapere diciamo che non si può sapere ma sì non bisogna rimuginare troppo nelle cose cioè va bene così senti ti faccio un'ultima domanda intanto grazie per questa super intervista quello che è destinato a te troverò il modo di arrivare di arrivare con gli errori sempre con gli errori giusto? sì ma sono tutte opportunità di crescita super sentite allora ti faccio un'ultima domanda che faccio sempre a tutti quanti tu all'inizio mi hai chiesto non mi ricordo se prima del podcast durante la registrazione del podcast mi hai chiesto cosa vuol dire l'1% no? e io tutti quanti chiedo prima di chiudere cosa vuol dire per te l'1% avete detto cosa vuol dire per me cosa vuol dire per te far parte dell'1%? e sai cosa? sono totalmente assuefatta dal mio tenore di vita dalla mia vita che effettivamente faccio fatica magari a cioè a vederla da esterno no? magari cioè io mi vedo sempre troppo poco comunque tipo come se fosse lo standard mi rendo conto che effettivamente non è lo standard no? la mia vita però faccio fatica a imbedesimarmi magari questo è l'1% vederti sempre troppo poco perché così cresci non lo so sicuramente per fare la mia vita ok anche se sembra una stronzata io ho fatto un casino di sacrifici continuo a farne so che adesso le persone diranno vabbè cioè hai tutto ok però per arrivare a quel tutto ho dovuto veramente sacrificare tante cose e cioè non mi è pesato perché le rifarei però non è scontato e non è semplice e devi sempre stare con la testa lì ad impegnarti a voler sempre insomma evolverti sempre di più questo forse fare parte dell'1% assolutamente eh beh quello magari non accontentarsi mai hai detto bene tu sì non accontentarsi mai assolutamente grazie Taylor super intervista come immaginavo e ragazzi se vi è piaciuta l'intervista come dico sempre vi è piaciuta perché altrimenti non l'avrete vista fino a questo momento condividetela se non l'avete vista peggio per voi esatto condividetela taggate anche Taylor e ovviamente mettete il rating mettete mi piace se state guidando fermatevi e fatelo dopo ricordatevi però grazie Taylor ci vediamo sicuramente magari nel prossimo episodio grazie allora abbiamo chiesto altri 5 minuti a Taylor di numero anche 3 e mezzo se vogliamo 3 e mezzo perché deve scappare però abbiamo chiesto 3 minuti e mezzo per fare delle domande pesco io? sì puoi pescare anche tu direttamente no vuole pescavi tu? se no le pesco io vai 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 tu mescola io pesco vai vediamo vabbè sono passate allora andiamo a vedere quando e perché ti sei avvicinata all'ichirurgia estetica? a 20 anni perché avevo visto due solchi qua e mi davano fastidio e ho cominciato col botox a 20 anni ok e dopo aggiungo quante volte quanto ti sei ritoccata? ho fatto le labbra e il seno basta vabbè il botox lo faccio lì per mantenimento ma e perché lo fai? non va a modificare i tratti domanda perché lo fai? vediamo per ognuno penso sia soggettivo perché siamo tutti perfettibili possiamo tutti migliorare ok allora andiamo vado a pescare le altre perché ovviamente tre minuti e mezzo ancora non l'abbiamo fatti come è gestita la situazione con la D'Urso? la situazione con la D'Urso? ma la D'Urso io la stimo moltissimo come dal punto di vista del lavorativo come donna è una grande una staccanovista professionista super professionale insomma come è andata? ho molta stima nei suoi confronti anzi la ringrazio per tutte le opportunità che mi ha dato ok allora vado con la prossima come mai hai scelto il tuo nome d'arte anche se l'hai raccontato penso tantissime volte come mai Taylor? allora io avevo un soprannome tipo su MySpace ancora di tanti anni fa una persona sbagliò di chiamarmi mi chiamò Taylor tipo mi chiamò mi chiamarmi com'è poi da lì è rimasto Taylor Taylor mega perché esattamente sono mega mega nel senso super mega ok tipo superlativo anche anche megalomani anche megalomani che è un complimento vediamo l'ultimo abbiamo venito che ne pensa la tua famiglia e di quello che fai anche se l'hai già detto la mia famiglia all'inizio non era contenta anzi vedevamo malissimo tutto quello che facevo cioè tutto questo non volevamo neanche che mettessi una foto in costume sulla foto di Whatsapp per dirti quindi famiglia un po' l'antica giustamente poi pian piano per fortuna li ho fatti evolvere e adesso mia mamma praticamente sta sempre su TikTok mi manda sempre i video di TikTok è la tua più grande fan la rotura di balle è facile adesso che fai i soldi comunque sì no ma ci ha voluto molto tempo e molto lavoro e loro sono stati molto bravi anche però a venirmi dietro però all'inizio non c'è friurani poi precisi un po' vecchio stampo e invece adesso sono cambiati per fortuna e sono diventati supporto mio papà praticamente è quello che mi mette sempre like tutti i video di TikTok e mi lascia un commento c'è un momento libero va a vedere i video ma neanche guarda lui cosa metto ci scrolla like è fine giustamente cominciare ma perché mia mamma riaggiando di fare questa cosa allora lui lo fa e quindi l'unica cosa è che non posso più portare un certo tipo di contenuto su Instagram perché so che ci sono loro che stanno lì a vedere e magari foto un po' più osè sai comunque la vanità il fatto di avere di lavorare molto al mio fisico cioè mi piace mostrare però un po' mi tengo per colpa loro ah sì per i tuoi genitori ti tieni dal postare vedi perché purtroppo si sono fatti i fake io li ho bloccati ma si sono fatti i fake perché quando se li blocco vanno da vedere dal fake ok sono fatti full quindi non puoi più si sono fatti troppo ma già è tanto che i genitori non so quanti anni abbiano magari sono giovani però che riescono ad accedere ai social sono del 60 mio papà è del 65 mia mamma beh sono utilizzatore di Sosa quindi già è tanto anche quello perché mia mamma guarda su Instagram ma gli ho in scuolati si dice come? gli ho in scuolati si dice educati si è in scuolati che forse è una parola filulano filulano si dice in scuolati si dice in scuolati vabbè gli ho educati insomma ma siamo educati va bene ci vediamo alla prossima